Il perdono Angelina Jolie parla di perdono, e intanto Brad Pitt va in Croazia Il perdono è larma migliore per tenere lontano lodio dalla propria vita, secondo Angelina Jolie ogni persona dovrebbe trovare dentro di sé la forza di perdonare e lei sarebbe pronta a farlo Con chi? Con il suo ex marito, il famoso attore e sex symbol Brad Pitt La bellissima attrice avrebbe rivelato ad una rivista di poter superare il dolore della separazione da Pitt a patto che lui ammetta e comprenda i suoi errori, da parte sua Brad non avrebbe ancora commentato queste parole, troppo impegnato nella sua nuova scommessa in Croazia Angelina Jolie sarebbe pronta a perdonare, e Brad Pitt che ne pensa? Tutto tace, dopo la rivelazione di Angelina Jolie, che si sarebbe detta pronta a perdonare l'ex marito qualora si fosse reso conto dei suoi errori, Brad Pitt è rimasto nel silenzio Sono moltissime le persone che si sarebbero aspettate una sua immediata risposta, invece il sex symbol di Hollywood sembra concentrato completamente sul suo nuovo ruolo di imprenditore in Croazia L'attore, dopo la separazione dalla moglie, ha deciso di dedicare un po' di tempo a se stesso e ai suoi figli, impegnandosi in un percorso di riscoperta e anche di guarigione In quest'ottica di riscatto, Pitt ha accolto anche una nuova sfida professionale, diventando il CEO di un resort di lusso da un bilione di dollari Secondo alcuni siti statunitensi, ora l'attore si sarebbe trasferito nella piccola cittadina di Zablace in Croazia per aprire un nuovo villaggio turistico, il cui piano di costruzione prevede in ordine un hotel di lusso, un campo da golf, molteplici ristoranti e negozi Inoltre il suo piano prevede anche la realizzazione di alcune scuole e di una clinica all'interno di questo resort super esclusivo Una nuova opportunità professionale stimolante, perfetta per ricominciare un nuovo capitolo della sua vita al top, e Angelina che cosa ne pensa di questa scelta? Per ora tutto tace, anche se sono tantissimi i fan che attendono degli sviluppi Angelina è la sua rinascita, la forza di una donna. Dopo un anno senza Brad Pitt e numerosi momenti di alti e bassi, Angelina Jolie ha ritrovato la sua forza di un tempo ed è apparsa più bella che mai Essere la mamma single dei sei figli, con età ed esigenze diverse, non è sempre facile, ma l'amore per la sua famiglia è stata la prima fonte di ispirazione per rimettersi in piedi Anche il lavoro è stato molto importante, aiutando l'attrice a ritrovare l'entusiasmo per nuovi progetti, dimostrandosi sempre una delle professioniste più affermate e capaci di Hollywood Concluso il suo anno sabbatico, la Jolie si è presentata sul Red Carpe e accompagnata dai suoi figli, mostrandosi coraggiosa e determinata verso il futuro Questo percorso di rinascita l'ha portata anche a comprendere quanto sia importante allontanare i sentimenti e le emozioni negative dalla sua vita, per questo si è detta pronta a perdonare Brad Pitt qualora lui avesse compreso i suoi errori Una scelta matura e di grande responsabilità, Angelina Jolie è un'icona di eleganza e raffinatezza, sempre pronta a superare le sfide che la vita le pone davanti Grazie a tutti